E' vero che Maria Antonietta ha detto la sua celebre frase? Purtroppo no. La frase è stata pubblicata nelle confessioni, libro di Jean-Jacques Rousseau pubblicato nel 1782. Lo scrittore afferma che nel 1741 Madame de Mambly non voleva entrare in una panetteria perché è vestita in modo troppo elegante. La principessa a cui si riferisce non può essere Maria Antonietta perché è nata nel 1755 e è arrivata in Francia solo nel 1770. La frase attribuita alla regina sarebbe stata pronunciata durante una rivolta del popolo dovuta alla mancanza di pane. Secondo la storica Antonia Frasin, la principessa a cui si riferisce sarebbe in realtà Maria Teresa d'Austria, moglie di Luigi XIV. In conclusione, negli ultimi secoli fiorirono diverse teorie, quasi sempre copie della storia originale ma pur sempre attribuita a donne.